Mi chiamo Laura Cogela e oggi sono qui in Skill Lab per una formazione tecnica su lettura di bilancio per non finance. In questo corso si propone la lettura di un bilancio attraverso la costruzione di prospetti di riclassificazione e la calcolo e analisi degli indicatori economico-finanziari. L'obiettivo del corso per non finance è soprattutto quello di riuscire a leggere e interpretare in maniera molto semplice ma significativa i principali numeri del bilancio, sia numeri economici di reddittività, sia situazione finanziaria e sia i flussi di cassa. I partecipanti subiscono da parte mia una fase teorica ma poi immediatamente mettono in pratica a livello interattivo con delle esercitazioni quanto appreso.